E dopo un mese che ho fatto l'ordine è arrivato tutto il pacco d'IKEA C'è il letto là C'è il Soredon Il divano che lo sto montando adesso Lì c'è Ciuschi che sta aiutando Ciuschi passami la chiave del 16 Poi c'è Cublo Il Il tavolinetto Poi c'è il letto Il lavric E poi ci sono i cuscini I cuscini Goia I Gozavad Che sono molto ricercati Adesso continuo nel montaggio Guarda che puzzola C'è da lavorare almeno due ore Ciuschi Allora ciao Olè Montato un pezzo Uno di Un pezzo solo di tutti questi Ciuschi Guarda sto colore Di merda Abbiamo dovuto comprare per te Un pasticconale di merda Perché Ciuschi dovete sapere Vomita Allora noi volevamo prendere quello azzurrino Ma con Ciuscaccio Che vomita Materiale Marroncino Rosso Molto bello Non l'abbiamo potuto Abbiamo dovuto prendere Sto Specie di jeans nero Che ovviamente voi Conoscerete benissimo Essendoci 397 punti Vendite Che in Italia E solo 4 in Florida Quindi Ciuschi Impasticconi di merda Che film è Che film è Allora noi volevamo prendere Ecco come sta procedendo Sto montando il cublo Adesso Dopo due ore Ho finito di montare il divano Adesso quello lì Bisogna buttarlo via Ci sono i zizi Che stanno suonando A Ciuschi Ha detto che non piace il colore Preferiva quello azzurrino Sì ma Non è che l'abbiamo preso per lei Poi lei A proposito Dov'è Ciuschi 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 Non è nel garage Perché quando Ciuschi Non si trova È sempre nel garage Chiusa dentro Andiamo a vedere Dov'è Ciuschi Ciuschi Il colore Ti piace o no Il problema di Ciuschi È che non ha i bordi Per sedersi È per questo Che abbiamo comprato Quello Che non c'è mai andata Andiamo qua Ciuschi Ci guarderò Olè Ho montato tutto Anche il cublo Ciuschi Che fa la mattarella Ciuschi Già Già Sgraffigni Guarda Tutto nero Però per il momento Abbiamo il cublo Ciuschi La mattarella È arrivata la mattarella Sto montando il letto Un po' in casino Ando solo Devo mettere Tutte sti cosi Un po' in casino 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 E' arrivata la mattarella Tadà, finalmente Ciuschi l'ha già provato C'è da dire, porca puzzola Le doghe ha un sistema sminchiolatissimo Secondo me, rifacendo il letto Un bel giorno cadranno tutte Non è che le fissi Le metti solo sopra E poi c'ha dei buloni Ma non sono attaccati Proprio, secondo me, è fatto male quello Si potrà aggiustarli semplicemente Buccando una doghe E fissandola al coso Ci sono già tutti i buchi Ed ecco com'è venuto così Tadà Sta facendo la mattarella Sì, la coda La mattarella Allora, prossima cosa da montare Che faremo domani La cassettiera Allora, per il momento è tutto Questo è il divano come è venuto E per finire l'ultimo pezzo del puzzle La cassettiera Da quanto tempo? Vediamo un po' il mio orologio Sette e cinquanta Sette e cinquanta Sì, volete vedere le mie nuove Watch face Fate da me Ah sì, sono le sette e cinquanta Questa almeno quasi due ore Di testo Solo con figure Devo dire che si capiscono Io ci capisco quasi Ci capisco sempre A volte è un po' dubbio Però abbastanza capibili È molto bello Adesso finisco E poi vediamo i risultati Olè 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 E tadan Cassettiera finita Olè Ce l'ho fatta Ed ecco Il coso Tutto finito Tutto Ciuschi Qui abbiamo queste bellissime Lampade Il letto La cassettiera La lampada di Kea Un coso lì Porta gioielli di Kea Cassettiere di Kea Televisore nuovo Insigna Marca famosissima E basta Di qua basta Andiamo nella sala di là Qua c'è Ciuschi Questo sarebbe il porta Ciuschi Però Ciuschi non ci va sopra Qui abbiamo il divano Abbastanza comodo Il tavolino è un po' basso Come si può notare Però Funzionale Adesso stavo facendo delle foto Del caso Quindi metterò dopo delle foto Anche su face Allora per momento è tutto Ciao a tutti Buongiorno è un po' basso